buonasera sono uso numero 5 piacere piacere a tutti allora io naturalmente vengo dalla provincia di pisa facendo un lavoro a fine settimana spesso vado al mare con la famiglia a marina di pisa avete visto che i bimbi come socializzano fraternizzano facilmente fra di loro e mio bimbo lo scorso fine settimana a faccia amicizia con due bimbi di milano sentivo che ragionava sai con bimbi di milano c'era un milanistrino che diceva al mio bimbo mio papi esce dalla lavoro dalla sua fabbrica alle 13 prende il suo maserati vola per la strada alle 13 e 30 è già a casa se vuoi al mio bimbo poi c'è dall'arte finalissino dice mio papi invece esce dal lavoro dalla sua fabbrica alle 13 prende il suo ferrarino vola per la strada alle 13 e 15 è già a casa ah sì disse il mio bimbo il mio babbo invece lavora in comune a pisa esce dal lavoro alle 13 a misogiorno e mezzo è già a casa mi frego via di sì il mio bimbo è un canzo certo però che i bimbi certe volte mettono in imbarazzo l'arte giocando sempre sera al mare per il mio bimbo mi disse mambo mambo mi raccomando un mio materassino a forma di bagnino riserviscono ci sono via materassino a forma di bagnino che dici c'è ma allora come mai mamma dietro gli scogli li sta gonfiando uno ma come ma come ma io lo so ma io ma 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 grazie grazie grazie